Una riunione mensile con RFI, Rete Ferroviaria Italiana e Trenord, per avere un rendiconto preciso dei disservizi, intervenire e cercare di fornire agli utenti una migliore comunicazione e un costante aggiornamento anche sui lavori in corso e in partenza. L'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile Franco Lucente ha incontrato oggi le due società alla luce degli ultimi mesi neri per il trasporto ferroviario. Da novembre le criticità sono aumentate, lieve miglioramento a dicembre per poi riprendere a gennaio, ammette l'assessore spiegando che vanno documentate, comprese anche le ragioni e le scelte compiute. A volte una soppressione si rende necessaria per non generare ritardi su tutti i treni successivi in partenza, spiega. Sono consapevole dei disagi che vivono i pendolari, dice, molti dei quali sono legati alla rete che è nazionale. Da qui a qualche anno vedremo la conclusione di alcuni lavori e avremo delle linee più efficaci, ma è chiaro che se si interviene si possono creare problemi e bisogna considerare i tempi. L'impegno in questa fase sarà sulla comunicazione. Prima di tutto cercheremo di coordinarci meglio e di fornire informazioni in modo ancora più tempestivo per ridurre le difficoltà dei pendolari. Certo, dice ancora il titolare regionale dei trasporti, non posso affermare che i problemi da domani spariranno, la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Il primo obiettivo al momento è la puntualità, almeno dobbiamo tornare ai livelli di settembre, sottolinea ancora l'assessore. Le riunioni mensili serviranno a tirare le somme anche sulle linee più critiche, tra queste rientrano pure quelle comasche, cercando di coinvolgere dove possibile i comuni interessati, dichiara Lucente. È chiaro che non tutto è prevedibile, ma almeno nel caso dei situazioni particolari e previste bisogna avvisare l'utenza attraverso tutti i canali, app e sito in primis. Quello che voglio sottolineare, dice infine l'assessore, è che non sono qui con le mani in mano, ma stiamo affrontando la situazione. Certo è che le soluzioni non sono immediate, non posso dire i pendolari che domani sarà tutto risolto.